Musica Netta sconfitta per 4 a 1 per la nazionale sarda di Vittorio Pugedu nella Antudo Cup 4 a 1 a favore dei padroni di casa giallorossi della Sicilia Una sconfitta comunque che lascia sicuramente un amaro in bocca Ma che non preclude niente a quello che è il percorso di crescita della nazionale isolana bianco-verde Oggi per l'occasione di Vittorio Pugedu Mancavano tanti giocatori importanti dalla Serie A fino alla Serie D Causa playoff e playout di molte squadre isolane in quarta serie Quello però che sicuramente resta per una prospettiva di crescita per la squadra della Sardegna E' il gioco, è mancata un pochino nei due tempi la squadra di Vittorio Pugedu Nella costruzione e soprattutto nell'attenzione difensiva Concedendo un po' troppo all'esperienza dell'attacco della Sicilia Spinta veramente da un curiale capitano e non solo con la fascia al braccio Ma anche nel morale, nella spinta propositiva della sua squadra E poi da alcuni giocatori DC che hanno davvero fatto la differenza per una Sardegna Che invece si è ritrovata solo pochi giorni fa e ha avuto un allenamento nelle gambe Prima di questa partita a Sarodia e a Oristano Mentre al contrario la compagine siciliana è riuscita a fare una serie di allenamenti Prima di arrivare a questo appuntamento Sardegna che continuerà, lo ha detto anche Vittorio Pugedu A fare una serie di raduni, di appuntamenti nazionali, internazionali Per provare a crescere e chissà che alle prossime convocazioni Non ci saranno giocatori importanti e di livello per la squadra di Vittorio Pugedu Che dovrà sicuramente dare una risposta dopo questo 4-1 Ma andiamo ad ascoltare le parole dei protagonisti qui di Mazzara del Vallo Al Nino Vaccara per ascoltare anche quello che è un po' il morale L'umore della piazza isolana dopo questa sconfitta Ma l'umore che secondo me la sconfitta è troppo severa Per quello che i miei ragazzi hanno espresso in campo Un primo tempo giocata da pari Forse un errore nostro in fase difensiva ha permesso a loro di realizzare questo 1-0 Forse nel secondo tempo non siamo entrati concentratissimi Abbiamo commesso un po' di errori lì in fase difensiva Soprattutto vicino ad aria che non sono ammissibili E non sono da concedere a giocatori importanti Come aveva la nazionale siciliana Avevano due punte che hanno giocato ad alti livelli E qualcosina le abbiamo regalato, devo dire, la vita Io credo che però la prestazione della mia squadra sia stata A prescindere dal risultato ottima Quattro gol sono difficili da dire Ma come fai a dire che la prestazione della tua squadra è stata ottima? Perché ho visto una squadra, ripeto, fino al 2-0 concentratissima Che ha regalato poche niente Non ricordo parate importanti da parte del nostro portiere E quindi voglio dire, anzi forse nel primo tempo siamo arrivati molto più vicini a noi A realizzare i gol e comunque ad arrivare più spesso nella loro area che non viceversa Quindi c'è da lavorare, questo lo sappiamo Era la prima volta anche che uscivamo in una manifestazione In un trofeo così importante Abbiamo capito di che pasta sono fatte le altre squadre Dobbiamo lavorare e impegnarci per far sì di non ripetere questi errori Come dici tu è vero che mancavano probabilmente dei giocatori Ma quelli che abbiamo convocato Credo che abbiano dimostrato tutto il loro valore Hanno fatto un'ottima partita Non stiamo a piangere per quello che poteva essere Perché non è nel mio DNA piangere su quello che poteva essere Che invece non è stato Ripartiamo da questa sconfitta 4-1 pesante Ripeto, però ho visto delle cose importanti Delle cose importanti su cui ci si può lavorare E l'unica cosa che sarà determinante È non commettere più gli errori che sono stati commessi Soprattutto in fase difensiva Perché il quarto gol non si può prendere un gol con 50 metri di lancio Da parte del portiere loro È una difesa forse troppo in linea Anzi togliamo il forse troppo in linea Che non ha dato la giusta copertura al portiere E soprattutto al difensore che aveva vicino l'attaccante della nazione siciliana Quindi questi sono errori che non dobbiamo commettere Se vogliamo fare un salto di qualità e di categoria Certo, certo Quello sicuramente Noi, ripeto, purtroppo per via di troppi spareggi Che purtroppo le nostre formazioni hanno dovuto Sarde hanno dovuto affrontare Play out, play off E quindi abbiamo potuto chiamare tanti giocatori Che avremmo potuto chiamare Ma ripeto, queste non sono scusanti Adesso dobbiamo ripartire Cercheremo sicuramente Se sarà possibile Perché purtroppo I finanziamenti e i soldi che abbiamo Non è che ci possano permettere di fare parecchie convocazioni e stage Per vedere tanti giocatori Però sicuramente cercheremo di poterli fare Di andare a vedere innanzitutto più partite Di metterci a disposizione tutto il mio staff A disposizione dei giocatori sardi per far sì che Questa nazionale migliori Migliori come prestazione Migliori come affiatamento dei singoli Della squadra E del movimento calcistico Che noi stiamo cercando Di portare avanti Con la nazionale Sarda Perché, ripeto Non è a livello di club Ma è una popolazione Che portiamo in giro In questo momento per l'Italia Ma ci auguriamo di portarla in giro Per l'Europa e per il mondo Sì, direi che il 4-1 forse è una sconfitta un po' pesante Che come abbiamo visto Sono stati quattro gol Su magari troppe leggerezze da parte nostra Però penso che sia stata una bella serata di sport Sono contentissimo di essere tornato in Sardegna Di giocare con la mia nazionale Con la mia terra Con i miei compagni Ho rivisto tantissimi vecchi compagni E come si riparte? Si riparte che adesso bisognerà magari appunto Vederci più spesso Per conoscerci meglio Non è un alibi Perché oggi abbiamo perso 4-1 Però sicuramente c'è bisogno di lavorare Magari più insieme Per appunto ripartire E fare meglio Beh certo Sicuramente per me Per dire Era la prima volta che venivo convocato Quindi anche le prime volte Può essere un po' emozionante Quindi si bisogna fare assolutamente gruppo Ed essere appunto pronti Per ripartire molto più forti Questo è stato un bel impegno Per capire anche di che passa Sono fatte le altre nazionali E sicuramente penso che ci faremo trovare Più pronti al prossimo evento Sicuramente è una grande emozione E rappresentare la nostra terra È un grande orgoglio E speriamo di farci trovare pronti Per i prossimi impegni È stata una bellissima manifestazione C'era un bel agonismo in campo Quindi bene È stato bello È stato molto bello Sicuramente Sicuramente non è stata un'annata facile Per il calcio sardo Però capita Capita per le annate storte Arrivano Sta solo cercare di rialzarsi Cercare di lavorare meglio Di farsi qualche esame di coscienza Chiaramente Non è stata un'annata facile Come hai detto tu Però Sono sicuro Il calcio sardo Anche grazie al nazionale Piano piano Tornerà su Cercherà di migliorare il suo livello Sicuramente le prossime manifestazioni Saranno più seguite Con tutto il movimento E ripeto È un grande orgoglio E Niente Quest'anno è andata così Però Non andrà sempre così Andrà meglio Grazie a tutti